Ci sono volute ore per domare il vasto rogo che ha interessato una collina boscata in località Latrove, nel comune di Laterina, Pergine, Valdarno. L'incendio è stato spento solamente nella notte tra giovedì e venerdì. Le fiamme erano divampate in mattinata e alimentate dal forte vento erano proseguite per tutta la giornata. A fuoco complessivamente circa 30 ettari di bosco, il fronte del rogo è stato lungo sino a 300 metri. Molto stretto però molto lungo. Il crinale ha preso qui dalla strada, è rimasto molto limitato come ampiezza, però ha camminato molto in fase di lunghezza. In volo anche tre elicotteri della regione toscana, cui in serata si erano aggiunti anche i Canadair. I sganci d'acqua hanno evitato che il fuoco si avvicinasse ad alcune abitazioni della zona. 30 le squadre impegnate sul fronte dell'incendio, pigili del fuoco, unione dei comuni del Prattomagno e volontari dell'antincendio boschivo della regione toscana. A rendere ancora più complesse le operazioni di spegnimento, la distanza dal luogo di approvvigionamento dell'acqua da parte dei mezzi aerei, i rifornimenti nel lago Trasimeno. Domate il rogo, nella nottata sono poi proseguite le operazioni di bonifica. Domate il progetto